Ciao raga, come state? Spero tutte bene. In questo momento drammatico in cui non possiamo più andare nelle nostre palestre e ad allenarci, abbiamo pensato di farvi vedere qualche esercizio da fare a casa per mantenerci in forma. Spero stiate tutte bene, mi è mancato tantissimo. Adesso con l'aiuto di Maya vi farò vedere qualche esercizio da poter fare tranquillamente a casa vostra. Comodamente. Iniziamo con i primi esercizi per scaldare un po' semplici pelle con gli addominali. Facciamo sempre poi anche in palestra, li conoscete. Il tappetino lo avete tutte. Serve proprio anche in casa. Potete farlo tranquillamente in sala, nella camera da letto, dove volete. Ogni esercizio vi consiglio di fare una serie, delle serie da 15 e per tre volte. Dopo il primo passiamo a questo, sempre gambe flesse. Muoviamo le braccia, ci spostiamo a destra e a sinistra. Terzo esercizio. Torniamo la palla. La palla ce l'avete tutti, prendete anche la palla dei vostri figli, una palla leggera, non ha importanza. Andate a toccare i piedi con le braccia e la palla. Non pieghiamo le gambe. Sempre tre serie da 15. Sempre sul tappetino. Possiamo fare anche questi. sempre per gli addominali. Attenti a non sforzare la schiena, mi raccomando. ci giriamo. Passiamo la gamba destra e il braccio opposto va su. Mi raccomando, braccio opposto non vi sbagliate, perché lo so che voi ogni tanto vi confondete. non me ne vogliate, mi prego. Passiamo al successivo. Slanciamo bene la gamba dietro, in alto. Prima una, poi l'altra. Sempre tre serie da 15. Questo lo so che mi piace da morire. Potreste fare anche una bella gara che non esiste di più. Vero Minelli e Garoia? So che mi piacciono questi. Dopodichè facciamo gli squat, ma ve li faccio fare in modo diverso questa volta. Con un bel saltello. Non uccidete eh. Facciamo in alto. Sempre tre, su questi potete farne anche solo due serie. Sono buona. Dopodichè facciamo degli esercizi per le braccia. Quindi possiamo prendere o i pesetti o chi non li ha, anche delle bottiglie piene d'acqua o di sabbia, come volete. E facciamo un po' di esercizi appunto per le braccia. Chi non ha i pesetti possiamo fare in questo modo. Sono gli esercizi tutti per la casa. Quindi un fai da te. Un po' anche un po' improvvisato. Visto che non possiamo uscire e che non li hanno neanche andare a comprare. Mi raccomando state in casa eh. Non uscite. Poi passiamo gli esercizi successivi fatti con la sedia. Ci mettiamo in questo modo. Appoggiate nella sedia. Ci sosteniamo con le braccia. e facciamo dei piegamenti su e giù. Cerchiamo di mantenere l'equilibrio. Prima una gamba, poi l'altra. Dopodichè direi che per oggi basta. Facciamo un po' di stretching. Gli esercizi di stretching li conoscete. Li facciamo sempre. Mi sembra superfluo per farvi vedere. Un'altra cosa. Adesso non ve ne vogliate. Chi ha le scale in casa. Si può allenare. Facendo le corse, saltelli. Come facciamo alla nave. Quindi utilizziamo anche le scale di casa. Per fare quello che facciamo in palestra. Gradoni a piedi uniti. Con un piede e con l'altro.